bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi in questo video vi spiegherò come creare pavel nedved su fifa 21 iniziamo nome pavel con il nome nedved andiamo direttamente su nome sulla divisa e scriviamo nedved numero di maglia 11 nazionale regione repubblica cieca squadra ragazzi o piemonte calcio ovvero la juve oppure lazio che sono le uniche due squadre italiane in cui ha giocato io metto la juve anno di nascita 1972 mese di nascita agosto data di nascita a 30 ora andiamo sul fisico e alto un metro e 77 e pesa 70 kg ora andiamo sul profilo tecnico ragazzi ruolo centrocampista posizione centro che ha dei preferito destra ragazzi gli attributi dovete vedere voi perché li potete mettere anche al massimo quindi andiamo direttamente su testa avvolta come sempre non mettiamo niente andiamo direttamente sotto un incarnagione scegliamo questa carnagione qui la quarta della terza fila ora raga andiamo sui sopracciglia scegliamo le prime sopracciglia della prima fila colore biondo e andiamo su trasforma la l qui e la r qui e la r qui facciamo conferma il po indietro ora raga andiamo su occhi scegliamo gli ultimi occhi della terza fila e andiamo su trasforma colore celeste chiaro mentre la l qui e la r qui facciamo conferma e poi indietro facciamo conferma e poi indietro ora raga andiamo sul naso sciogliamo il quinto naso della prima fila questo qui e andiamo su trasforma la l è qui e la r qui facciamo conferma e poi indietro ora raga andiamo su bocca scegliamo la terza bocca della terza fila e andiamo su trasforma la l è qui e la r qui molto molto semplice facciamo conferma e poi indietro facciamo conferma e poi indietro ora raga andiamo su guance mascella scegliamo la prima guance mascella della seconda fila e andiamo su trasforma trasforma a pienezza dovete andare verso destra a pienezza dovete andare verso destra e lasciare un po' di spazio mentre la l qui e la r qui facciamo conferma e poi indietro ora raga andiamo sul mento scegliamo il secondo mento della seconda fila e andiamo su trasforma la l qui e la r qui facciamo conferma e poi indietro ora raga andiamo su orecchie scegliamo le ultime orecchie della seconda fila ora raga andiamo su capelli su capelli lunghi sciogliamo questi capelli qui il colore ragazzi o lo mettete biondo questo qui oppure proprio che sembrano bianchi secondo me è molto ma molto meglio questo poi ragazzi a barba o mettete questa qui che non ci vede proprio ha dato la differenza pochissima oppure niente come volete voi io metto questa poi ragazzi a divisa stile maglia girovita maniche stile divisa scarpini accessori scarpini guanti polso sinistro polso destro animazioni esultanze stile pallina attiva stile punizioni stile calcio di rigore stile corsa dovete vedere voi li potete mettere come volete bene ragazzi il video di oggi termina qui ciao